E' capitato, credo oggi o comunque in queste ore, un episodio vergognoso alla stazione Eav di Santa Anastasia. Sono scesi i passeggeri dal treno, quando si sono chiuse le porte il treno ha cominciato a ripartire, un gruppo di giovani delinquenti ha preso a calci uno sportello, ha sfondato un vetro mentre il treno partiva. Meno male che non si è fatto male nessuno. Una piccola banda di piccoli delinquenti. Le telecamere hanno ripreso, mi auguro che siano arrestati quanto prima.